Alla mixed zone del Partegno Lombardi siamo già in compagnia di mister Massimo Rastelli, buonasera mister, vittoria doveva essere, vittoria è stata per festeggiare al meglio anche i 110 anni che compirà domani l'Avellino, diciamo con un a zero che sta forse anche un po' stretto alla squadra bianco-verde che ha sciupato qualche occasione di troppo, però alla fine quello che conta sono i tre punti. Sì, è normale che poi gli ultimi minuti dove l'avversario ti butta palla in profondità nel cercare qualche misca, qualche spizzata per cercare di agguantare il pareggio, ma nel complesso dopo sicuramente una prima mezz'ora non semplice dove abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, abbiamo permesso all'Andrea di ripartirci in velocità, dopo abbiamo preso la partita, siamo andati in vantaggio, nel secondo tempo credo che abbiamo suggellato la vittoria con 3-4 occasioni per chiuderla, è normale che poi queste partite quando non le chiudi il pericolo è sempre dietro l'angolo, però ho fatto i complimenti alla squadra, è venuto il presidente con Giovanni D'Agostino, il direttore, a fare tutti i complimenti alla squadra perché questa è stata la settimana più difficile che io abbia mai vissuto da quando faccio l'allenatore, ogni giorno perdevamo giocatori ed è stato veramente difficile assemblare un 11 ma soprattutto poi capire la gestione della gara perché veramente avevo pochissime scelte, tanti giocatori avevano dei problemi e quindi oggi veramente i ragazzi hanno raschiato il barile, sono andati al di là di tutte le difficoltà oltre i propri limiti e ripeto giocare senza pubblico diventa ancora più difficile, quindi veramente grandi complimenti ai miei ragazzi. Comissario, al di là della comunicazione dell'ufficio stampa poco prima della partita dell'influenza di Marco Garetto ci è sembrato di capire anche visti i cambi che Russo e Casarini non erano al meglio, ecco forse perché anche i cambi sono arrivati un po' più in là diciamo nel secondo tempo. Sì, Casarini praticamente si è allenato ieri mattina in palestra, è stata tutta la settimana con la febbre, Garetto ieri dopo aveva finitura con la febbre, Russo con la febbre, quindi qualcuno aveva dei problemini fisici, quindi veramente è stata, ripeto, una settimana per me molto molto complicata. Però i ragazzi hanno dimostrato comunque di capire il momento, hanno fatto quadrato, hanno dato fondo a tutte le proprie risorse, voglio fare i commenti anche a Franco che non giocava da un po' anche se a Torre era entrato, perché comunque si è fatto trovare pronto, tranne i primi 15-20 minuti dove comunque un po' tutti abbiamo fatto un po' fatica e quindi Murano credo abbia fatto un'ottima gara, quindi chi è stato poi chiamato in causa si è fatto trovare pronto e questo per me è un motivo di grande soddisfazione. Comissario, continua la crescita anche di Diego Gambale che trova il terzo gol oggi, addirittura match winner e poi della difesa, altro clean sheet, il terzo in quattro partite e tanta roba questo. Sì, anche perché poi la metà dei gol che abbiamo preso da quando sono arrivato io sono arrivato su palline attive, su rigore, su calci d'angolo, quindi veramente abbiamo preso mi sembra due, massimo tre gol su azione in dieci e passa partita. Quindi a dimostrazione della solidità della difesa e naturalmente con l'aiuto di tutta la squadra, perché il reparto sicuramente nell'attenzione e nell'applicazione sta dando dei grandi risultati, ma con l'aiuto naturalmente e il sacrificio da parte di tutti gli altri reparti. Quindi oggi, ripeto, per tanti motivi dobbiamo essere veramente molto soddisfatti. Ecco, commissario, quindi noi riportiamo a volte anche un po' l'umore dei tifosi, visto che siamo sempre in collegamento anche con i commenti che ci arrivano da casa. Insomma, si parlava di vittoria sofferta, di prestazione brutta, ha spiegato già che non è d'accordo con questa visione. No, no, ti ripeto, uno è libero di vedere la partita come vuole, io rispetto tutti, voi lo sapete, io faccio l'allenatore, so quanto è stato difficile preparare questa partita e quindi a maggior ragione questa vittoria vale no doppio, vale triplo. Abbiamo visto l'esultanza a fine partita. Grazie, grazie mille. Grazie a mister Massimo Rastelli.